Soprattutto per chi di voi non ha cominciato a sentire un po' le lezioni registrate e poteva risultare abbastanza complesso, ripeterò alcuni punti fondamentali di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Al Cavaliere di Bronzo Pushkin arriva dopo un percorso abbastanza accidentato, cosa che in questo periodo peraltro gli capita abbastanza spesso perché anche altri testi di questo ultimo suo periodo è come se fossero la punta dell'iceberg sotto la quale sommersa c'è una mole di testi, di varianti, di ricerche di cui il lettore contemporaneo a Pushkin sapeva ben poco. In realtà il lettore contemporaneo a Pushkin non ha potuto leggere neanche la versione finale del Cavaliere di Bronzo che venne sottoposta a censura considerata ideologicamente non molto ortodossa. Poi vedremo perché quando arriveremo proprio a questa versione definitiva. Comincia il lavoro su tutta una serie di tematiche che poi finiranno nel Cavaliere di Bronzo con una riflessione anche molto dolorosa per Pushkin benché lui come avete visto cerchi anche di ogni tanto buttarla un po' in ridere in queste sue poesie, in questi versi che lui scrive precedenti al Cavaliere di Bronzo relativi alla storia della sua famiglia. Come tutte le opere di quel livello il Cavaliere di Bronzo viene a costituire un nodo di tematiche, di motivi, elementi che erano un po' nell'aria, erano una sorta di segno dei tempi, solo che fino a questo momento si erano manifestate tutte in ordine sparso, non nello stesso testo. C'era per esempio il tema della statua che prende vita, questo già fin dall'erezione del monumento a Pietro. Poi su queste tematiche torneremo dopo, c'è l'elemento di Pietroburgo finestra sull'Europa, c'è una sorta di particolare rivalità fra le memorie legate a Pietro e attraverso di lui a Caterina la Grande, che è quella che ha edificato il monumento a Pietro, ce l'ha scritto anche sopra, a Pietro I Caterina II, il monumento equestre, che è poi il Cavaliere di Bronzo, da una parte, e invece morto Alessandro I nel 1825, poi i De Cabristi eccetera eccetera, il suo successore, il fratello Nicola, per una certa antipatia nei confronti della nonna Caterina II, un'antipatia ereditata dal padre Paolo, cerca di edificare monumenti che siano un po' in concorrenza col Cavaliere di Bronzo, per esempio la grande colonna di Alessandro sulla piazza antistante, al Palazzo d'Inverno. C'è poi il tema dell'eroe di poema, quindi un poema alto, un poema non eroicomico o comico, ma un poema eroico di argomento solenne, il cui personaggio principale è un uomo qualsiasi, l'uomo qualsiasi che diventa suo malgrado eroe di una grande narrazione e in generale ne fa le spese. Tutti questi elementi erano una sorta di brodo, cuocevano nel discorso pubblico, nella letteratura oggi dimenticata, certamente non di grande livello, di questi anni, stiamo parlando di fine anni 20 dell'Ottocento, e Pushkin crea questo grande poema che rimane per noi, comunque vedremo io, non arriveremo in fondo al nostro corso dando al Cavaliere di Bronzo una interpretazione univoca. Questa interpretazione sarebbe arrischiato farla, è un poema che può essere orientato in direzioni diverse, i cui accenti possono essere spostati, resi mobili, un poema ambiguo, se vogliamo, come è ambigua del resto, la storia. Abbiamo visto come per il momento di queste grandi tematiche Pushkin si occupi, non si occupi, l'inizio, il punto iniziale è dato dalla riflessione sul, come l'abbiamo detto, di tipo storico-sociale antropologica, la decadenza delle grandi famiglie nobiliari che hanno fatto la storia della Russia fin dai tempi dei Variaghi, attraverso tutta una serie di punti storici qualificanti, inizia la loro decadenza, la loro marginalizzazione. Dall'altro io con il gruppo con cui faccio il mini seminario sul pensiero politico russo abbiamo analizzato un appunto politico di Karamzin rivolto ad Alessandro I nel 1811, quando Alessandro si pareva volesse fare una costituzione tipo il codice napoleonico, insomma, Karamzin fa un discorso molto simile a quello che farà poi Pushkin, che probabilmente ne venne influenzato nelle sue idee. Il primo punto, il primo momento di crisi si ha, secondo Karamzin, nel periodo dei Torbidi, nel periodo dei Torbidi, fine 500, inizio 600, quando il succedersi veloce di pretendenti al trono, di zar, che vengono poi spodestati, sostituiti da altri impostori, persone con uno scarso diritto o nullo di salire al trono, rompe una sorta di vincolo di fedeltà fra il popolo, le masse popolari e il sovrano, con questo ceto della nobiltà di sangue che si trova in mezzo, come tirato da due poli, da una parte questo principio monarchico dell'autocrazia e dall'altra una massa popolare che comincia a sentirsi svincolata dall'elite politica, che fa un po' per conto suo alternando questi sovrani e dividendosi in partiti. Poi con Pietro il Grande ci sarà la grande spaccatura, anche questo lo dice Karamzin, sono discorsi che preludono già ad alcune tesi dei pensatori slavofili. Con Pietro il Grande ci sarà la spaccatura anche culturale fra elite e popolo, la grande massa del popolo si trova, continua a vivere secondo le vecchie tradizioni, e la minoranza culta invece si occidentalizza, in qualche modo anche snazionalizzandosi, e Pushkin poi, come abbiamo visto, ci mette di suo questa analisi della marginalizzazione delle casate nobiliari. Vi ricordate, abbiamo visto, anche con una certa ironia, quando lui dice io sono un Mieschanin, sono un piccolo borghese, perché? Perché i miei antenati non hanno acquisito onori nel Settecento, quindi abbastanza da poco, facendo, per esempio vendendo frittelle, come Mienchikov, o pulendole, lucidando gli stivali allo zar, come Ivan Kutaïsov, che era il cameriere personale di Paolo, e ci sono vari altri esempi in questa sua poesia, all'epoca non pubblicata, Maia Radaslovnaia, la mia genealogia. Io non ho antenati che abbiano fatto queste cose, che abbiano conquistato onori, ricchezze, la nobiltà stessa, attraverso questi servizi di tipo abbastanza modesto, nei confronti degli ultimi sovrani russi, la mia famiglia, molto, molto più antica. Ci eravamo fermati, se vi ricordate, alla rievocazione di come gli antenati di Pushkin avessero combattuto accanto al mercante Minin e al principe Pajarski, all'inizio del Seicento, contro i polacchi per ristabilire un unico potere, un sovrano autenticamente russo, da cui poi, nel 1613, l'elezione dei Romanov, vi ricordate, Nijegarodzky, Mishanin, perché Minin e Pajarski iniziano questa riscossa nazionale della Russia dalla città di Nizhny Novgorod, città ricca, con flori di commerci, e di lì partì la riscossa, che vide anche uno degli antenati di Pushkin come protagonista. Io qui salterei qualche verso, perché il materiale da visionare è tanto, e ricomincerei da Spietrom Moipraschur Niepaladil, viene qualche verso dopo l'ultimo che avevamo letto. Qui cominciano i problemi, fino a questo momento gli antenati di Pushkin sono stati sempre al centro delle vicende, hanno svolto un ruolo chiave, accanto ai legittimi sovrani, o per rimetterli sul trono dopo, per esempio, il periodo dei torbidi, con Pietro il Grande cominciano i problemi. Dice Pushkin, Spietrom con Pietro Moipraschur, Prashur è Trisavolo, inteso come antenato, il mio Trisavolo Niepaladil, non si intese, non andò d'accordo, dal verbo ladit, paladit, e da cui anche l'esclamazione avverbio ladna, che vuol dire, i russi la usano molto, va bene, ok, sì, ci siamo, ci sto, ladna, ve lo dicono in continuazione, quindi segnatevi queste parolette, ogni tanto abbastanza utili. Con Pietro il mio Trisavolo non andò d'accordo. Ibuil zato pavieschen im. Se qualcuno di voi ha già ascoltato, cosa che io avevo consigliato di fare, perché chiaramente serve un po' come sfondo a queste lezioni, se qualcuno di voi ha già cominciato a sentire le lezioni registrate su Pushkin, sull'Evgenianiegin, ricorderà il verso il buit pavieschen kak rileyev. Pavieschen vuol dire impiccato. E fu per questo, zato, per questo, domanda, za shto, perché, per quale motivo, risposta, Ibuil zato pavieschen im. E fu per questo impiccato da lui. Ievo primier budj nam naukai. Qui ci sono anche delle citazioni nascoste, lo vedrete quando ascolterete le lezioni sulla Nieggin, proprio dai versi più famosi della Nieggin. nella prima strofa della Nieggin, si dice dello zio, a casa di cui, alla tenuta del quale a Nieggin si sta recando, proprio all'inizio del romanzo in versi, viene un po' preso in giro questo zio, paragonato implicitamente a un somaro, e però si dice anche, si fa anche capire che è un uomo tutto ad un pezzo, molto contento, molto fiero di sé, e si dice, Ievo primier drugim nauka, ossia, il suo esempio è scienza per gli altri, ossia, lui pretendeva che, quando dava l'esempio, tutti si conformassero, e perché lui sì che sapeva come si fa. qui abbiamo un verso molto simile, però con un'intonazione assai diversa, Ievo primier bud nam naukai, che il suo, questo bud è imperativo, è imperativo, il suo esempio, primier esempio, sia a noi scienza, ossia, prendiamo, cioè, facciamo tesoro del suo esempio, che non ha, diciamo, non è andato d'accordo con Pietro, e Pietro lo ha impiccato, in realtà, non è che non era andato d'accordo, il trisavolo di Pushkin, aveva partecipato a una congiura contro Pietro, in nome delle antiche tradizioni, che Pietro voleva abolire, il taglio della barba, gli abiti occidentali, tutta una serie di comportamenti sociali, che venivano visti dal, dall'aristocrazia boiara, e anche dal popolo semplice, del tempo, come satanici, lo sentirete, anche questo se ne parla, nei corsi registrati, sulla piattaforma, Claor, ci furono alcuni tentativi, di congiura contro Pietro, a uno partecipa anche, il trisavolo di Pushkin, che viene per questo invicato, e dice Pushkin, facciamo tesoro, del suo esempio, qui vedete che troviamo, cominciamo a trovare il tema di Pietro, questo Pietro, visto sia come inflessibile riformatore, sia come uomo di potere, come, come, non voglio usare il termine tiranno, ma uno comunque, che se tu non ci vai d'accordo, ti impicca, questo doppio volto di Pietro, è legato tra l'altro, al trisavolo, di Pushkin spesso, nie lubits poraf vlastielin, questo termine vlastielin, che tornerà poi, nel cavaliere di bronzo, il sovrano, dalla parola vlast, vlast, vuol dire potere, vlastielin è il sovrano, colui che esercita, un'autorità sconfinata, nel cavaliere di bronzo, si dirà, o mochni vlastielin sud bui, di Pietro il Grande, ossia, o potente dominatore del destino, vedete, su un piano addirittura quasi, che coinvolge il destino, che coinvolge i destini dell'umanità, e viene assunto quasi a un potere sovrumano, chi è che domina il destino? Certamente non gli esseri umani, qui siamo, questa parola invece viene usata ancora in una chiave ironica, stiamo parlando di cose abbastanza tragiche, che in realtà, perché, congiure, impiccagioni, rivolte, la rovina di una famiglia, di intere famiglie, boiare, Pushkin però, come vedrete, anche leggendo sia Lanjeghin, che nelle lezioni, per esempio, sul suo poema, e eroi comico, Ruslan e Ludmila, è maestro, nello stile eterogeneo, ossia, nel variare molto il livello stilistico, il punto di vista, metterci una sprezzatura ironica, Pushkin, ecco, il sapevole, lo ha imparato dal suo maestro, Girjavin, grande autore, e riformatore del genere, delle Odi, a fine Settecento, ha imparato che mantenere sempre tutto, su un tono solenne, stanca, e se sei sempre, sul tono solenne, dopo un po', diventa un rumore di fondo, indistinto, che non si sente più, una sorta di gran cassa, continua, e il lettore, non ci fa più caso, devi sempre andare su e giù, variare, con lo stile, per, far sentire, poi, i toni solenni, quando ce li metti, deve essere, il solenne, la percezione, sta nel contrasto, degli elementi, quindi, questo Pushkin, è un grandissimo, maestro, il potente, la stilin, il potente, il potente, il potente, non ama, i litigi, non ama discutere, potremmo dire, spor è discussione, disputa, il potente, non ama le dispute, e poi, c'è un esempio, buttato lì, Shastliv, Knyas, Jakov, Dalgaruchi, e, è un esempio, un po' buttato lì, Jakov, Dalgaruchi, era, un, un collaboratore, di Pietro il Grande, principe, Knyas, Jakov, Dalgaruchi, definito, Shast, vedete, Shastliv, Knyas, Jakov, Dalgaruchi, cosa vuol dire, Shastliv, chi me lo sa dire, cosa vuol dire, Shastliv, cos'è Shastir, è la felicità, o la fortuna, in questo caso, è stato fortunato, il principe, Jakov, Dalgaruchi, è stato fortunato, perché, perché, era, notoriamente, uno, con un carattere, abbastanza, difficile, e, spesso, si opponeva a Pietro, insomma, gli diceva in faccia, quello che pensava, addirittura, una volta, strappò, un editto, firmato, da Pietro il Grande, e, però, non gli è successa mai niente, infatti, viene definito, fortunato, mentre molti altri, che, si sono comportati come lui, per esempio, il, teresavolo di Pushkin, questa fortuna, non, l'hanno, avuta, e, continua, Shasli, Knias, Jakov, Dalgaruchi, Umion, Pakorni, Mieschanin, Umion, viene da, è il, l'aggettivo, forma, breve, di, Umni, Cosa vuol dire, Umni, 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 Umni vuol dire, Umni è il contrario di, Glupi, Glupi vuol dire, stupido, Umni vuol dire, Intelligente, vuol dire, intelligente, o, in questo caso, saggio, savio, si potrebbe, si potrebbe, dire, è saggio, il, Mieschanin, il, quindi, il piccolo borghese, l'uomo da nulla, il, l'uomo, il plebeo, Pacorni, Pacorni vuol dire, Ubbidiente, è, saggio, il, Mieschanin, Ubbidiente, cosa vuol dire, con questa, con questo doppio verso, di tono, anche abbastanza, ironico, il principe, Iacov dal Garuchi, ha avuto fortuna, a non venire impiccato, pur essendosi spesso, arrabbiato con Pietro, averci discusso, ma era il principe Iacov dal Garuchi, ed era comunque, un grande collaboratore di Pietro, un magnate, dei tempi, dei suoi tempi, il Mieschanin, è saggio, se invece, sta schiscio, e si comporta, in modo, Ubbidiente, senza alzare, troppo, la testa, e, continua, il buon, il buon, Puskin, Moïdied, Cagda, Miatiesh, Padnialzi, ci stavamo muovendo, lungo, la storia del Settecento, una storia, fatta di, rivolte, e, di, congiure, alcune riuscite, alcune no, come ci mostra, qui, il buon, Aleksandr Sergeyevich, i suoi antenati, si sono sempre trovati, dalla parte sbagliata, perché, il Trisavolo, si è messo, cioè, ha partecipato, alla rivolta contro Pietro, alla, alla congiura contro Pietro, che è stata scoperta, ed è stato impiccato, suo nonno, Moïdied, Moïdied, e comincia una frase, subordinata, Cagda, Miatiesh, Padnialzi, Quando la rivolta si sollevò, Padnialzi, 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 vuol dire, sollevare, naturalmente, Padnialzi, si sollevò, Padnialzi, sollevar, si, Miatiesh, rivolta, Sredj, Pietjergovskava dvara, il, e qui, siamo, in piena storia, di, metà, Settecento, la rivolta, che si, che si solleva, alla corte, di Pietjergov, Pietjergov, è una, delle, regge, che, circondano, Pietroburgo, queste regge, venivano, volta per volta, erano le sedi, dei vari membri, della famiglia, imperiale, che, da una sede all'altra, mi dire, si, si, osservavano, anche, un po', gli uni con gli altri, ogni, ogni corte, naturalmente, c'era, la corte principale, era quella, dove risiedeva l'imperatore, c'erano altre corti, che erano centri, come dire, di lobbismo, di interessi, anche un po', particolari, gestiti, da altri membri, della famiglia, imperiale, la corte di Pietergoff, è quella che si ribella, nel 1762, contro Pietro III, che, ahimè, durò poco, sul trono, per mettere sul trono, la figlia, scusate, la figlia, buonanotte, questo è l'AstraZeneca, che fa, che fa effetto, la moglie, di Pietro III, ossia, Caterina II, Caterina II, e, finisce qui, la frase subordinata, ossia, quando si sollevò, la rivolta, in, in, si riedì, vuol dire, in mezzo, all'interno, della corte di Pietergoff, ossia, quando si sollevò, la guardia, imperiale, per mettere sul trono, Caterina, al posto di Pietro, moidied, cacminich, altro personaggio, importante, di quest'epoca, cacminich, vierien, astavalsia, astavalsia, rimase, in realtà sarebbe, rimase, dovrebbe essere, astalsia, il perfettivo, lui qui usa, l'imperfettivo, una sorta di, imperfettivo storico, astavalsia, rimaneva, vierien, vierni, ossia, fedele, rimaneva fedele, alla caduta, del, terzo, pietro, alla caduta, del terzo, pietro, padienio, trietie, va pietra, padienie, dal verbo, padat, ossia, cadere, vedete, alla caduta, del terzo, pietro, il povero, nonno, di, puchkin, mentre, il trisavolo, aveva partecipato, alla congiura, contro pietro, primo, il grande, e aveva perso, ed era stato impiccato, il nonno, era rimasto, fedele, a pietro terzo, ma la congiura, in questo caso, nel 1762, riesce, e quindi, anche, il nonno, di, puchkin, viene, emarginato, e chiaramente, esce, dai grandi giochi, perché, salgono, sul, sulla scena, nuove, famiglie, famiglie, di nuova nobiltà, che avevano condotto, la rivolta, contro pietro, terzo, e, la rivolta, che porta, alla salita, al trono, di Caterina, seconda, infatti, Puchkin, papali, vcest, tagda, arlovi, i fratelli, arlof, favoriti, e, grandi personaggi, politici, del periodo, del regno, di Caterina, seconda, papali, vcest, papasti, vuol dire, cadere, qui, nel senso di, finire, vcest, cest, è l'onore, eh, qui, significa, eh, ebbero onori, salirono in auge, salirono in auge, allora, gli arlovi, adied moi, fcripost, fcarantin, e, vedete com'è, lo stile, si abbassa, anche in modo un po' mesto, adied moi, e mio nonno, naturalmente, verbo, essere, eh, non c'è, ma è come se ci fosse, eh, e, mentre, questo a, al posto di i, questo a è avversati, è un po', e, è un po' ma, è un, una copula, avversati, con una, con una, diciamo, con un aspetto anche un po' avversativo, mentre mio nonno, era, nel, criepost, criepost è fortezza, era in fortezza, criepost, quarantin, in quarantena, naturalmente, non è la quarantena, che stiamo facendo noi, chiusi, in casa, per il covid, la quarantena, nel senso che, era, era stato fedele, a Pietro Terzo, e quindi, lo tengono chiuso, prima, nella fortezza, e poi, agli arresti, domiciliari, i prismiriel, nascerod surovi, e, si acquietò, prismiriet, viene da, mir, che vuol dire, pace, no, vai na, i mir, guerra e pace, i prismiriel, e si acquietò, si pacificò, si detta una calmata, sostanzialmente, nascerod surovi, rod, chi di voi ha ascoltato, anche solo, le prime due lezioni, registrate, sa che rod, vuol dire, cosa vuol dire rod? stirpe, stirpe, rod, da cui na rod, rod surovi, surovi, vuol dire, fiero, il nostro, la nostra fiera stirpe, si dette, una calmata, dopo tutte queste, tragedie storiche, dopo avere, praticamente, sempre, combattuto, dalla parte, sbagliata, il, la stirpe, dei Pushkin, si dà una calmata, e viene, piano piano, viene, spinta, ai margini, della, grande storia, infatti, continua, cosa vuol dire, io, raddilsia, sono nato, e io sono nato, mischanin, vedete che, è una poesia, di tono, generalmente, scherzoso, però, è un'analisi, molto lucida, del, destino, sociale, storicamente, condizionato, naturalmente, non del solo Pushkin, vi ricordate, l'avevo detto anche l'altra volta, questa, poesia, nasce da una polemica, che lui fa, con, col giornalista, Faddei Bulgarin, un, giornalista, lui sì, veramente, plebeo, ma, in quanto plebeo, anche molto servile, nei confronti, del potere, politico, a cui deve tutto, e, nasce, da questa polemica, viene condotto, in modo un po' scherzoso, ma Pushkin, non sta parlando, solo di sé, sta parlando, dell'intero destino, sociale, della nazione, no? Questa, questa marginalizzazione, delle famiglie, dell'antica nobiltà, di sangue, in cui Pushkin, vede il baricentro, culturale, etico, spirituale, politico, del paese, cioè una Russia, senza questo baricentro, lui non riesce assolutamente, a immaginarsela, però, vede che comunque, la storia sta andando, da un'altra parte, e se la spiega, così, sono salite, aristocrazie nuove, dovute al denaro, e al servilismo, e noi, siamo rimasti, da parte, siamo stati spinti, da parte, da questo, nascono tutti, i problemi, e la Russia, si è bloccata, nel suo, nel suo sviluppo, naturalmente, è una sociologia, molto discutibile, i problemi, come abbiamo detto, l'altra volta, erano altri, era che, l'economia, basata sulla servitù, della gleba, non funzionava più, in occidente, c'erano state, le rivoluzioni liberali, c'era, lo sviluppo, dell'industria, la rivoluzione industriale, il commercio, invenzioni nuove, e la Russia stava rimanendo, sempre più indietro, occupando, a livello internazionale, un posto, che ormai, non era più, garantito, dal peso, della propria economia, del proprio esercito, della propria tecnologia, e si stava, la società russa, si stava sfilacciando, le famiglie, della, della nobiltà terriera, i proprietari terrieri, erano sempre più, indebitati, in realtà, il povero, cioè, un povero, neanche tanto, Nicola, Nicola I, sia lo zar, di questo periodo, di fine anni venti, che durerà fino a metà degli anni cinquanta, fino alla guerra di Crimea, cercava in tutti i modi, di sostenere un po' questi proprietari terrieri, con la banca della nobiltà, prestiti, ma, non funzionava più, bisognava, fare una, un passo in avanti, perlomeno liberando i serbi della gleba, solo che, per quelli come Pushkin, questo sarebbe stato un disastro, cioè, non c'era una via d'uscita, da questa situazione, in avanti, che potesse, però, garantire, anche un futuro, a Pushkin, a quelli, e a quelli come lui, lui da questo, da questo, paradosso, non riesce a uscire, e questo si vede bene, in tutta una serie di testi, di questo periodo, si vede bene anche nel, nel cavaliere, di bronzo, per arrivare alla fine, di questa, maia, radaslovneia, vedete, pad gherbavoi, maiei, picciatiu, ja, khipu, gramat, scharanil, sotto, la mia, sotto il mio, sigillo, la mia, come si chiama il sigillo, con lo stemma, sotto il mio sigillo, con, nobiliare, perché gherb, è stemma, e picciat, picciat, è stampa, nel senso, per esempio, i giornali, le riviste, si chiamano picciati, la stampa, in questo caso, però, vuol dire sigillo, sotto il mio sigillo, con lo stemma, ossia, sotto il simbolo, del mio essere, un nobile, di antica, nobiltà di sangue, io, ho, seppellito, un mucchio, di, ehm, gramata, in questo caso, si può tradurre, come, decretto, come decreto, un mucchio, di decreti, naturalmente, stiamo parlando, kipa, è, un mucchietto, un mucchio, una parola, del linguaggio quotidiano, molto bassa, nobiltà, eppure, sta parlando, prima, vedete, quando parlo, di stile eterogeneo, nobiltà, padghier bavoj, maiei picciatio, stile alto, e poi, i akhipu, gramat, scaranil, ho, seppellito, tra l'altro, verbo, veramente usato, in modo, ironico, haranit, seppellire, ho, seppellito, un mucchietto, di, editti, di, di, di decreti, sono, naturalmente, i decreti, che, certificano, la nobiltà, della famiglia, Pushkin, sono, i decreti imperiali, i decreti, addirittura, quelli antichi, storici, fatti dai principi, dai principi, in cui, si certifica, la nobiltà, del, della famiglia, di Pushkin, e lui, ha sepolto, questo mucchietto, di decreti, sotto, il suo, sigillo, nobiliare, tutto da una parte, come, un mucchio, di vecchi, di vecchi giornali, inutili, Ia, nye, iakshayus, s, novai, znatyu, iakshatza, il verbo, iakshatza, vuol dire, intendersela, frequentare, bazzicare, è un verbo, anche questo, siamo quasi, è un verbo, gergale, proprio, bazzicare, anche qui, notate, il, questo, uso, universale, proprio, degli stili, questo saliscendi, stilistico, io, non, bazzico, però, iakshatza, è, riflessivo, e si usa, col, s, più strumentale, non me la intendo, con, la, nuova, aristocrazia, znaty, attenzione, non è il verbo, znaty, una cosa è il verbo, znaty, una cosa è il sostantivo, femminile, znaty, cioè, si scrive, si legge allo stesso modo, ma sono due cose diverse, la znaty, in questo caso, la nuova e znaty, è, la aristocrazia, questa, si potrebbe ripetere, la domenica del verso precedente, prima ti è bloccato, e non sono riuscita, ah, iakhipu, gramat, scaranil, i, 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 il mio sigillo nobiliare, perché c'è il gherb, gherb è il, è lo stemma, pieciat, sigillo, gherb, stemma, quindi sotto il mio sigillo nobiliare, io ho seppellito un, 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 un mucchio di, un, un mucchio di decreti, sono i decreti, gramata, è il decreto, o l'editto, in genere emanato da un'autorità, la gramata, e viene dal greco naturalmente, quindi ho seppellito un mucchio di editti, sono gli editti, i decreti che provano la nobiltà della famiglia Puskir, ma lui li ha seppelliti sotto la sua, il suo sigillo nobiliare, quello con lo stemma, perché tanto ormai non servono più a nulla, come cartacce inutili, e prego, e continua, vedete, non me la intendo con la nuova aristocrazia, i crovi spesi ugamanil, ugamanit è un verbo abbastanza che sentirete usare, sicuramente, vuol dire placare, mettere a posto, tranquillizzare, si usa anche come, si usa anche al, in forma riflessiva, come imperativo, se qualcuno, se qualcuno sta dando in escandescenze, oppure è un po', insomma, si sta comportando male, potete dire ugamanis, ugamanis, vuol dire datti una calmata, datti una regolata, stai calmo, qui, qui, ugamanil spies cravi, spies, vuol dire, laboria, l'alterigia, la spies, del crof, crof è il, chi lo sa, cos'è crof? il sangue, esattamente, ho, quindi, calmato, ho dato, insomma, ho, placato, la, boria, l'alterigia, del sangue, i aggramatiei, i stighatvorez, vedete che è falsa modestia, naturalmente, da una parte c'è la, sicuramente, il dispetto, la tristezza, per, per una storia che sta andando in una direzione sbagliata, non solo per quanto riguarda Pushkin, ma, secondo lui, l'intera nazione si sta sviluppando in un modo sbagliato, d'altra parte, lo aveva detto anche Karamzin, in quell'appunto, che si intitolava, sulla vecchia e nuova Russia, del 1811, lui, fra le varie cose, consigliava a Alessandro I, di smetterla, di far diventare nobili persone che non lo erano di sangue, per, magari perché hanno servito lo Stato, attraverso la tabella dei ranghi, per chi voi sa di cosa si è, che si tratta, istituita da Pietro il Grande, si diventava nobili servendo lo Stato, e è un'altra riforma di Pietro il Grande, che a quelli come Karamzin e come Pushkin non piace, perché la nobiltà è qualcosa che non si compra, e non si acquista col servizio nei confronti del potere, qualcosa che viene dalla storia, e Karamzin diceva, non deve essere il servizio che dà la nobiltà, ma la nobiltà che dà il servizio, la nobiltà è quel ceto storicamente formato, sì, tradizionale, nel quale, nel cui ambito, il sovrano sa che deve trovare gli uomini migliori, non è il contrario, ossia un utile servitore dello Stato che lavora tanto e lo fa diventare nobile, no, vedete che c'è proprio quest'idea che va preservata la nobiltà, per Karamzin era ancora una battaglia possibile da combattere, almeno lui lo pensava, nel 1811, con questo appunto allo zar, per Pushkin, alla fine degli anni venti, già non è più dopo la rivolta de Cabrista, è chiaramente ormai una battaglia persa, e lui lo sa, e infatti dice, io ho placato la boria del sangue, ossia noi siamo stati sconfitti, la nostra causa ha perso, e lui dice, Grammatiei viene da Gramata, vi ricordate, in questo caso Grammatiei viene da Gramata, ma non inteso come editto, o come decreto, inteso come alfabeto, ossia come saper leggere come scrittura, Gramata vuol dire anche questo, esattamente come in greco, da cui il nostro Grammatica, Gramata è anche la scrittura, infatti di una persona, non so se lo sapete, comunque questa è una parola utile, chiedere a uno, tui Gramatni, vuol dire, sai leggere e scrivere? Ja Gramatni, vuol dire, io so leggere e scrivere, ja Gramatiei, Gramatiei è uno che si occupa, di scrittura, Gramatni vuol dire, uno alfabetizzato, che sa scrivere e leggere, Gramatiei è un termine, oggi un po' arcaico, e comunque, anche un po' spregiativo, per indicare chi vive di scrittura, vive dello scrivere, uno scribacchino, si potrebbe dire, uno scribacchino, e chiaramente, per i nobili russi, per l'aristocrazia russa, il Gramatiei è un plebeo, perché i nobili russi, a volte erano addirittura analfabeti, non erano loro a dover leggere e scrivere, erano i loro segretari, per l'appunto, uomini di servizio, che erano i Gramatiei, Gramatiei è lo scribacchino, lo scrivano, quello che si badagna il pane, scrivendo, e Pushkin lo dice di se stesso, naturalmente lui intende, io sono un intellettuale, io sono uno scrittore, è falsa modestia, cioè è un gioco piuttosto sottile, quello che sta facendo. I stichatvoriets, cosa sono gli stichi? Gli stichi. Sono i versi, sono i versi, gli stichi. stichatvoriets è il poeta, si può dire paet, che è un termine, che viene naturalmente, dalle lingue classiche, un termine aulico, stichatvoriets, anche questo, ha un sapore un po' abbassato, perché è questa parola russa, è uno che scrive versi, è uno che si guadagna da vivere, scrivendo magari versi su commissione, o per determinate occasioni, è un rimando, I aggrammatiei istichatvoriets, è una frase dove Pushkin, ironicamente, anzi auto-ironicamente, assume un punto di vista che poteva essere quello di un aristocratico del Settecento, che nel suo palazzo aveva il maestro di danza, il pittore, l'insegnante di francese, il tappeziere e il poeta, il grammatiei istichatvoriets, che magari gli scriveva le lettere quando ce n'era bisogno, oppure, il giorno del suo compleanno, scriveva un'ode per questa data, questo significa, vedete come l'uso di determinate parole fa subito acquisire ai concetti un sapore inconfondibile, naturalmente in traduzione non si percepisce niente, io tra l'altro considero uno dei miei scopi, più che altro insegnarvi, ugualmente, a livello ancora iniziale a cui ci troviamo, però a lavorare sui testi in questo modo, ossia non capire solo il senso letterale di ciò che c'è scritto, ma vedere attraverso la filigrana dello stile, i rimandi, le suggestioni che ha usare un determinato registro registro rispetto a un altro il tipo di associazioni culturali che si creano, cioè Pushkin è uno capace di orientare la sua lingua all'indietro, acquisire il punto di vista di un'altra epoca usando determinate parole, naturalmente in questo caso lo fa in forma, autoironica, io in realtà sono uno scribacchino, e poi continua, io Pushkin prosta ne musin, e questa, se uno non lo sa, non la può capire, la società in cui viveva Pushkin è una società in piena fase di passaggio, non solo sul piano economico, abbiamo visto la crisi delle aziende agricole basate sulla servitù della gleba, ma anche come infrastruttura culturale, Pushkin ha anche questo aspetto che va sempre tenuto molto presente, Pushkin viene da una società dove la cultura si fa nei saloni, è una cultura amicale, basata su circoli ristretti di conoscenti che si frequentano nei saloni, nei salotti, molta letteratura non è pensata neanche per essere pubblicata, ecco perché il problema della censura diventa più forte poi quando invece la letteratura comincia a passare tutta attraverso la stampa e allora lo zar può effettivamente esercitare, diciamo l'apparato statale, può esercitare un controllo su quello che viene pubblicato, però molte poesie di Pushkin o di altri, per esempio dei decabristi, non erano state scritte per essere stampate, venivano recitate nei saloni e spesso quindi questa letteratura da cui Pushkin viene, che è la letteratura del periodo caramsinista, diciamo, quindi anni 10, 20, dell'Ottocento, questa letteratura spesso è basata anche sull'allusione personale, ci sono molti epigrammi ad personam, proprio, perché tutti si conoscevano fondamentalmente, naturalmente è già nato anche un comparto letterario tipo su rivista che circolava in provincia, però diciamo che la serie A della letteratura è ancora quella che si gioca nei saloni, man mano che passa il tempo questa cosa entra in crisi, ancora vivo Pushkin, infatti l'ultimo Pushkin farà molti tentativi di entrare nel circuito delle nuove riviste che stavano nascendo, come vedremo poi anche Il Cavaliere di Bronzo rientrava in un progetto di tipo più o meno possiamo definirlo commerciale, aveva Pushkin promesso a un editore, poi vedremo di chi si tratta, un pioniere dell'editoria commerciale russa, un poema e si era anche fatto promettere una cifra piuttosto alta, poi purtroppo la cosa non riuscì perché il poema venne giudicato impubblicabile dallo Zara, quindi Pushkin si trova proprio in questo periodo tra anni 20 e anni 30 in cui sta finendo il periodo dei saloni in cui le opere si leggono a voce fra persone che si conoscono e il periodo invece della stampa, il periodo commerciale dove a tutti gli effetti la letteratura diventa merce noi vediamo una delle utili manifestazioni di questa estetica insomma un po' da salone in questo riferimento io Pushkin Prostani e Musin perché c'era la famiglia dei Pushkin e c'era la famiglia dei Musin Pushkin ovviamente erano lontani parenti ma erano comunque due rami diversi i Musin Pushkin peraltro erano messi economicamente meglio dei Pushkin da cui veniva il povero Alexander Sergeyevich e quindi lui dice io sono semplicemente un Pushkin non un Musin Pushkin e quindi sono un uno sfigato diremmo noi è sempre un'autoironia vedete lui fa questo nome perché tutti sanno ritiene che tutti sappiano di chi si stia di chi si sta parlando di chi si sta parlando Musin Pushkin facendo questo riferimento Janje Bagac Bagac viene da Bagati cosa vuol dire Bagati ricco 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 io non sono un riccone Bagac è la persona che si può considerare Bagat il Bagac è il riccone io non sono un riccone Nye Tsar Edvoryez Tsar Edvoryez viene da Tsar e da Dvoryez quindi Tsar e il palazzo la curte cosa vorrà dire Tsar Edvoryez io non sono un un cortigiano non sono un cortigiano Ya Sambal Shoi Ya Mishanin e finisce con questa rivendicazione io sono ma avete voluto avete voluto fare della mia famiglia una famiglia di piccolo borghesi va bene sono un piccolo borghese sono un Mishanin non mi rompete le scatole non sono ricco non ho bisogno di fare il cortigiano perché ho poco ma quel poco che ho mi basta c'è c'è questo Ya Sambal Shoi che è un fraseologismo un fraseologismo che era entrato in disuso già ai tempi di Pushkin che però Pushkin usa diverse usa più volte è una citazione pensate chi di voi ha già cominciato a studiare il manuale dalla quinta satira di Kantimir quindi siamo proprio nel periodo di Lomonosov Kantimir è alle origini della letteratura russa io lo chiamo uno dei tre demiurghi siamo negli anni cioè siamo nel primo terzo del settecento e Kantimir in una delle sue satire per le quali è famoso usa questo termine Yasam Bal Shoi naturalmente Bal Shoi vuol dire grande e usato in questo fraseologismo significa io non prendo ordini da nessuno io sono indipendente io decido per me stesso io sono grande e vaccinato potremmo tradurlo con un fraseologismo naturalmente dei nostri tempi ahimè grande sì vaccinato no almeno per la maggior parte di noi campacavallo comunque vuol dire io sono grande vaccinato io sono indipendente non mi rompete le scatole e questo Yasam Bal Shoi infatti lo usa anche nei frammenti della nieghin sia in quelle parti della nieghin che poi non entrarono a far parte del testo del testo principale vedete quindi cosa dice Pushkin io sono il risultato di un processo storico di marginalizzazione delle famiglie boiare adesso la società è in mano a una nuova aristocrazia legata al servizio di corte legata alla tabella dei ranghi legata alle regalie del sovrano o addirittura la cultura che sta nascendo è in mano a degli speculatori plebei che non hanno niente di sacro chiaramente sono servili nei confronti del potere io sono il discendente di tutto ciò che di bello di nobile di libero di valoroso questo paese ha prodotto avete fatto di me un grammatia isticat voi pensate che io sia soltanto uno scribacchino dal vostro punto di vista di grandi signori ma io porto in me tutta la grandezza della storia russa e sono grande vaccinato non ho bisogno di soldi o di onori mi faccio gli affari miei e scrivo e mi sento libero la mia è una libertà interiore una libertà interiore in un certo senso posso considerare me stesso un po' come una variante di quella che in occidente sarebbe la borghesia con i suoi ideali di libertà e di autonomia questo è un discorso come vedete molto complesso che Pushkin in questa poesia apparentemente scherzosa porta avanti da questa poesia si passa direttamente al frammento Jesirsky che trovate subito dopo dove troveremo molte è una sorta di seconda tappa verso il cavaliere di bronzo Jesirsky sono frammenti di un poema dove probabilmente già c'era l'idea di mischiare quest'idea del piccolo borghese del mie chanin del piccolo uomo che però viene da una stirpe illustre che si arrabatta nella vita quotidiana nei problemi della società lui contemporanea e viene messo al centro cosa nuova per un poema di argomento serio e unire questo tema al tema dell'inondazione di Pietroburgo inondazione realmente avvenuta realmente avvenuta poi vedremo anche qualche dettaglio storico quando introdurremo poi il vero e proprio poema del cavaliere di bronzo nella sua versione definitiva e Iesierski è molto interessante perché è come una sorta come ho detto di stazione di passaggio ritroviamo tutta la rievocazione di tipo anche marcatamente comico in certe sue parti della dell'antica nobiltà di sangue legata mani e piedi tutta la storia russa però troviamo anche all'inizio il tema dell'inondazione e soprattutto soprattutto all'inizio il buon Pushkin è molto incerto sulla tipologia del personaggio perché all'inizio intanto lui ha appena finito Levienianiegin e ci aveva lavorato tanti anni e un po' gli manca quell'attività che lo aveva accompagnato per tanto tempo si era chiaramente anche affezionato a determinati personaggi questo Jesierski inizia con alcune caratteristiche vedete un po' come la crisalide che all'inizio sembra un bruco poi si trasforma in farfalla cambia completamente morfologia un po' per volta nasce con l'imprinting della Nieggin prima di tutto abbiamo la strofa oneghiniana che non c'era nella poesia che abbiamo letto erano semplici rime baciate tipiche della poesia un po' leggera con elementi comici anche se abbiamo visto la tematica non è tanto comica di suo il poema il poema il cavaliere di bronzo non avrà la strofa oneghiniana assolutamente mentre invece Jesierski questi frammenti a cui Pushkin si ci lavora un po' con difficoltà poi molla tutto e gli viene evidentemente gli viene l'illuminazione l'intuizione perché poi il cavaliere di bronzo lo scrive in pochissimo tempo mentre su Jesierski c'era qualcosa che evidentemente non gli tornava forse proprio queste reminiscenze oneghiniane che ci stavano a fare poco tutto sommato abbiamo la strofa oneghiniana e qui forse è il momento di introdurre questo concetto fondamentale lo troverete poi nelle strofe che vengono analizzate in classe nelle lezioni del Claur strofa oneghiniana sono tre quartine tre quartine più un distico finale prima quartine abbiamo rime alternate ossia A B A B la seconda quartine abbiamo le rime baciate C C C D D terza quartina abbiamo le righe incrociate abbiamo le scusate le rime incrociate ossia E F F E e poi c'è il distico GG ossia un distico che rima come una sorta di piccola rima baciata in fondo è un format che Pushkin conia proprio apposta per le vieni a nieghin da subito funziona molto bene una specie di guanto in cui la tematica della nieghin entra perfettamente in genere le quartine possono risolversi in un concetto in un'immagine separata possono fluire l'una nell'altra con un discorso che continua spesso si ha la presentazione di un tema il suo svolgimento e poi il il distico finale che è come se tirasse un po' le somme ecco questo tanto per dire come funziona in generale la la strofa onighiniana che voi troverete in quei testi che in Niesierski lui prova a utilizzarle abituato ormai scrive in strofe onighiniane da anni e sono per lui un modo assolutamente naturale di esprimersi ma evidentemente la tematica qui si presta meno si presta meno e alla fine abbandonerà questo questo format probabilmente anche perché come io dico spesso la forma poetica la forma proprio dei versi il loro metro il ritmo in questo caso la strofa hanno una sorta di loro memoria si imbevono si impregnano di suggestioni di riminiscenze rispetto a ciò per cui sono state usate in precedenza quindi usare la strofa onighiniana era fa troppo venire in mente la Nienghin e dato che la tematica è completamente diversa si creava come una sorta di rumore di fondo di rumore di fondo onighiniano per un argomento che vuole comunque essere diverso all'inizio anche il protagonista era pensato come una sorta di onighin 2.0 era pensato come un dandy pietro burghese messo di fronte alla tragedia dell'inondazione ma ben presto Pushkin si rende conto che questo dandy onighiniano ormai ha fatto il suo tempo quello che c'era da dire sul dandismo il figlio della moda la sua sterilità intellettuale l'ha detto e ridetto nell'anighin la come dire la cerchia di problematiche da affrontare in questo nuovo poema è totalmente diversa ci vuole un eroe diverso un eroe abbassato rispetto ad anighin di ceto sociale più basso un povero impiegato povero impiegato che si trova ad avere a che fare con il almeno si capisce che anche in Esersky il tema dell'inondazione doveva essere presente forse non ai livelli che avrà poi l'importanza che avrà poi nel cavaliere di bronzo ma siccome l'incipit è chiarissimo da questo punto di vista una volta abbandonato l'eroe onighiniano veramente la strofa onighiniana non ci stava più a fare proprio niente e era proprio un modo anche un po' di sviare il lettore e Pushkin elimina anche quella però i frammenti che noi abbiamo sono ancora scritti in strofa onighiniana e noi ne leggiamo una tanto per cominciare per entrare in questo nuovo avatar di questo è una sorta di nebulosa che si sta coagulando di tematiche di suggestioni di prognosi di aspetti stilistici la ricerca di un nuovo eroe lo sfondo storico il tema di Pietro il Grande il tema del monumento il tema dell'inondazione l'inondazione che cosa vuol dire vuol dire vuol dire il fato vuol dire il potere che schiaccia il piccolo uomo vuol dire l'inondazione avviene nel 1824 nel 1825 negli stessi luoghi avviene la rivolta decabrista quindi una sorta di prefigurazione della rivolta decabrista vuol dire tante cose tutto questo si sta coagulando come ho detto prima ho fatto l'esempio della crisalide posso fare anche l'esempio del girino e della rana c'è in questo esierski a parte alcuni aspetti che entreranno nel nel cavaliere di bronzo c'è anche una sorta avete presente che i girini hanno una coda che poi la rana perde quando diventa rana in questo caso la coda è tutto il tutta la rievocazione delle sorti della stirpe di esierski molto simili a quelle alle sorti della famiglia dello stesso dello stesso Pushkin questa coda araldica possiamo definirla viene poi tagliata e messa e eliminata anche se restano alcuni riferimenti ma poca roba nel testo definitivo ma è importantissima vi ricordate ho fatto anche l'esempio dell'iceberg per vedere cosa c'è sotto sotto il cavaliere di bronzo Nad Amracionim Pietragradam dovreste notare una cosa Nad Amracionim Amracionim è uno slavismo molto solenne Iserski inizia con il lessico dell'ode settecentesca solenne tra l'altro vedremo per il cavaliere di bronzo importante questa cosa perché ci sono tre livelli linguistici che si contaminano fra loro il linguaggio dell'ode settecentesca il linguaggio che potremmo definire oneghiniano dendistico frivolo brillante e un altro linguaggio nuovo atto a esprimere la quotidianità umile della vita di uno come questo Iserski che nella poesia di Pushkin non c'era mai stata probabilmente lui risente un po' del laboratorio della prosa per esempio dei racconti di Bielkin che stava scrivendo nello stesso periodo in questo Amrachonni vuol dire da Amrachit che a sua volta viene da Mrak Mrak vuol dire tenebra quindi su Pietrogrado che si va oscurata sulla Pietrogrado oscurata questo verso dovreste notare un elemento un po' strano com'è chiamata la città Pietrogrado non Pietrogrado ma Pietrogrado evidentemente anche questo uno slavismo vedete un inizio molto aulico e slavizzato perché Burg è tedesco è il nome a quei tempi ufficiale della città Pietroburg e lui lo chiama Pietrograd ossia da Gorod Grad slavo ecclesiastico per slavizzare in qualche modo dare una patina slava storica aulica a questo nome da notare non so forse qualcuno di voi in che periodo anzi ve lo chiedo in che periodo la città si è chiamata anche ufficialmente Pietrograd chi lo sa qualcuno me lo sa dire c'è stato un periodo in cui Pietroburgo si è chiamata ufficialmente Pietrograd se non lo sapete ve lo dico io il periodo dal 1914 al 1924 quando scoppiò la prima guerra mondiale contro Austria e Germania si pensò che il nome Pieterburg fosse troppo germanofilo e venne chiamata la città Pietrograd in realtà ispirandosi a questo verso non molto benaugurante che poi appare anche la stessa parola nella versione definitiva del Cavaliere di Bronzo si parla di un'inondazione non era molto benaugurante infatti la guerra viene persa la città continua a chiamarsi Pietrograd e solo alla morte di Vladimir Ilich Lenin il capo dello stato sovietico il suo fondatore la città viene rinominata in Leningrad nel 1991 con la fine dello stato sovietico tramite referendum i cittadini di questa città decidono di riportare il nome all'originale St. Pietroburg Pietroburg peraltro la regione di Pietroburg continua a chiamarsi regione di Leningrado quindi hanno fatto una discreta confusione ma i russi sono famosi per le soluzioni un po' lambiccate quindi sulla oscurata sull'oscura potremmo dire sull'oscurata Pietrogrado asienni vietier tucci gnall asienni viene da osien cosa vuol dire osien osien dovreste saperlo autunno bravissima bravissima autunno il vento d'autunno gnall verbo gnats vuol dire spingeva le tucci tucci è la nube si può dire oblaco si può dire anche tucci le nubi si intende nubi un po' un po' minacciose tucci spingeva le nubi d'isciala nyeba vlajnim chladam d'isciala sto per finire per oggi ancora un paio di minuti e poi la chiudiamo perché siete stanchi sicuramente però volevo farvi vedere anche alcuni aspetti d'isciala nyeba nyeba vuol dire nyeba il cielo il cielo respirava dushat respirava spirava potremmo dire noi spirava vlajnim chladam chlad è uno slavismo per cholod cosa vuol dire cholod cholod freddo vlajni vuol dire umido il cielo spirava umido freddo vedete che ci sono dal punto di vista del del registro stilistico delle parole abbiamo molti slavismi quindi registro della ode solenne settecentesca dal punto di vista dell'immaginario delle immagini sono immagini molto ossianiche qui Pushkin paga un tributo ai canti di Ossian a questo preromanticismo anglosassone che era andato di moda tra l'altro non andava di moda negli anni trenta dell'ottocento era andato di moda alla fine del settecento proprio con l'uscita dei canti di Ossian e con la loro fortuna in tutta Europa quindi Pushkin è come se spalmasse gli strati stilistici uno sull'altro ode solenne settecentesca usando gli slavismi immagini cupe tempestose cimiteriali che vengono dai canti di Ossian di fine settecento Nievà Schumiela la Nievà fiume di Pietroburgo rumoreggiava bilzia val val è l'onda si può dire valna ma in questo caso val è l'onda più alta i marosi il flutto si può dire il flutto bilzia da picchiare bizza si agitava il flutto o pristan nabierieshnei stroinei o pristan quindi o più accusativo è un utilizzo che voi non conoscete di o conoscete come complemento di argomento vuol dire contro contro il molo della del lungo fiume armonioso stroinei armonioso nabierieshneia lungo fiume e appare il tema architettonico il tema della città dall'architettura armoniosa una città fatata fatta di moli di granito di grandi palazzi armoniosi solenne che ispira forza ispira soggezione come una sorta di di rappresentazione in forma di città di chi l'ha fondata di Pietro il Grande e qui è l'ultimo verso che facciamo per oggi c'è un un paragone una metafora che invece ci porta subito nella sfera della quotidianità anche diciamo un po' meschina se vogliamo si quindi si agitava il flutto contro il granì contro questo questo lungo fiume armonioso come caccelabicic bis pacoi celabicic viene da celò che vuol dire fronte e bit tra l'altro appena usato bil sia val celabicic bit picchiare celabicic è colui che picchia la fronte per terra inchinandosi ossia è il supplicante colui che supplica battendo la testa per terra il supplicante il postulante bis pacoi agitato come il supplichevole agitato ab dver sudieis contro la porta del giudice vedete abbiamo l'immagine della della porta della porta di un di un giudice ossia di un tribunale a cui il il supplicante per i suoi problemi legali processi finire rovinato rischiare la galera insomma picchia disperato la testa contro la porta del giudice vedete in pochi versi quanta complessità cioè cos'è capace di fare Pushkin in pochi versi proprio andando da un livello stilistico all'altro in continuazione creando alla fine un'immagine un'immagine coerente comunque io direi che per oggi possiamo chiuderla qua